Nell'area parte la parabola sul secondo palo, il colpo di destra è il gol. È arrivato il gol dell'Albania al minuto 25 del primo tempo. È saltato più in alto di tutti il difensore Aldo Simoncini. Fanno festa i torni albanesi. Rivediamo, svetta Mavrai. E c'è il Armando Vajusi. Controllo sinistro sull'interno del palo e pallone al sacco. Gol bellissimo. La difesa sanmarinese ha tardato a chiudere sul portatore di palla. E non c'è stata pressione. Naturalmente quando non c'è pressione lui ha fatto una grande finta prima del sinistro. Lo possiamo vedere. Guarda, va via molto bene. Palazzi è troppo lontano. E poi naturalmente inventa questo sinistro straordinario che va a baciare il palo. Poi si spegne l'MLM in fondo al sacco.